Il nostro gruppo voterà convintamente la proposta di legge Ottocamera 30 nel testo licenziato dalla Commissione modificato durante l'esame in aula. Come prima firmataria e relatrice di questo provvedimento che finalmente garantisce maggiori tutele agli animali ve ne spongo le ragioni. La prima è che stiamo attuando quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione nella formulazione votata dal Parlamento quasi tre anni fa. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ecco dunque la legge dello Stato che dal precetto costituzionale trae le logiche conseguenze, a cominciare dalla nuova rubrica del titolo nono bis del codice penale, dei delitti contro gli animali. Si tratta di una novità di grandissimo rilievo, una novità rivoluzionaria che modifica la prospettiva con cui guardiamo alla tutela penale degli animali e apre la strada ad altre importanti innovazioni. E' un fatto inoltre che la proposta sulla quale stiamo per esprimerci aumenta le pene sia detentive che pecuniarie per i principali reati e illeciti a danno degli animali, l'uccisione, il maltrattamento e l'organizzazione dei combattimenti. Dell'idea che la battaglia contro abusi e crudeltà sugli animali si vinca sul piano culturale, io ne ho fatto una ragione di vita, quindi figuriamoci se non sono d'accordo. Ma di fronte all'obiettiva gravità di certe condotte, tutti i partiti, associazioni, società civili reclamavano sanzioni più severe per deterrenza. Aumentano le pene per l'uccisione di animali, quindi 544 bis. Si passa da quattro mesi di reclusione nel minimo e due anni nel massimo a sei mesi nel minimo e tre anni nel massimo, sempre congiunti ad una multa che finora non era prevista, da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto poi è commesso adoperando sevizio, prolungando volutamente la sofferenza dell'animale, si passa a un anno nel minimo e quattro anni nel massimo, con una multa raddoppiata da 10.000 a 60.000 euro. Aumentano le pene per il maltrattamento degli animali, 544 terzi, passa da tre mesi nel minimo e 18 nel massimo, a sei mesi nel minimo e due anni nel massimo, accompagnati sempre dalla multa tra i 5.000 e i 30.000 euro, che oggi è alternativa alla reclusione. Aumentano le pene pecuniarie per chi organizza spettacoli e manifestazioni con sevizia e strazio per gli animali, 544 quatera. Aumenta significativamente la multa, da 5.000 a 15.000 euro nel minimo e da 15.000 a 30.000 nel massimo. Aumentano le pene per la violazione del divieto di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali, 544 quinquies. La pena detentiva aumenta da uno a due nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo. Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro anche a chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni. Questa è un'altra importante novità. E poi aumentano le pene per l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui. L'articolo 638, il reato diventa finalmente perseguibile d'ufficio, come quelli del titolo non obista. La pena passa da sei mesi a un anno nel minimo e da un anno a quattro anni nel massimo. L'articolo sarà applicabile all'uccisione o al danneggiamento anche di un solo bovino o di un solo equino. E per tutti questi reati contro gli animali sono previste nuovi aggravanti, con l'introduzione dell'articolo 544 Septies. Se i fatti sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi nei confronti di più animali, se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici. E' finalmente accordata alle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute la facoltà di impugnare giudizi cautelari reali, di presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e prebatori, facoltà che da tempo il mondo associativo attendeva. Le misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia diventano applicabili anche ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti e manifestazioni vietati e al traffico di cuccioli. Aumentano le pene per il traffico di cuccioli, numerose modifiche quindi alla legge 201 del 2010. Un esempio, vi sono sanzioni aumentate per il traffico di animali senza chip, microchip e passaporto. Si arriva a 4 mesi nel minimo e 18 mesi nel massimo della pena con una multa che raddoppia 6.000 euro nel minimo e 30.000 nel massimo e tante altre misure. E poi il divieto di tenere il cane alla catena, finora previsto solo da alcune leggi legionali, è finalmente introdotto a livello nazionale e sorretto da adeguate sanzioni da 500 a 5.000 euro. Non vi saranno quindi zone franche per questa vecchia barbarie. E aumentano le pene precugniarie previste dall'articolo 727, abbandono e detenzione in condizioni incompatibili, passando da un minimo di 1.000 a 5.000 con un massimo di 10.000 euro. Il combinato disposto con l'aggravante introdotto nel nuovo codice della strada, che prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l'abbandono viene su strada o nelle pertinenze, fa sì che l'ammenda minima possa salire ancora notevolmente. E poi infine aumentano le pene in caso di uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta. La pena detentiva passa da un mese nel minimo e sei mesi nel massimo a tre mesi nel minimo e un anno nel massimo, sempre congiunti con l'ammenda, che raddoppia fino a 8.000 euro. E nei casi di distruzione o deterioramento di habitat, in sito protetto 733 bis, si passa dall'arresto fino a 18 mesi all'arresto da tre mesi a due anni. Anche qui raddoppia l'ammenda, che non sarà inferiore a 6.000 euro. Colleghi, questo è il cambiamento che in molti attendevamo e sono sicura che saprete coglierne la portata. Come ho già detto ieri, alla percezione di sostanziale impunità che accompagna chi commette crimini contro gli animali corrisponde un sentimento di profonda indignazione in ampi settori dell'opinione pubblica, di tutti gli orientamenti politici e culturali. Un sentimento che non era e non è possibile ignorare. E a chi invece sogna l'impunità, e in quest'Aula qualcuno la sogna, a chi sogna l'impunità, ripeto, solo perché le vittime sono animali e non possono neanche parlare, dico che continui a sognare o si trasferisca in un altro Paese, perché qui per l'impunità non c'è spazio. Da quattro legislature porto avanti, e ne sono orgogliosa, questa battaglia di civiltà, che non ha colore politico, come dimostra il lavoro trasversale che facciamo nell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, di cui ho l'onore di essere Presidente. Avevo promesso giustizia agli ultimi tra gli ultimi, ai tanti animali seviziati e uccisi da mani scellerate. Ricordo il cane Angelo torturato a morte nel Cosentino, il cane Aaron bruciato a Palermo, il gatto Leone scuoiato vivo nel Salernitano, il gatto Green ucciso a botte in Veneto. E poi ci sono gli altri, che non potrei citare tutti neppure se invece di dieci minuti avessi a disposizione molte ore. Oggi posso dire di aver raggiunto un traguardo, di aver ottenuto pene più elevate e di aver mantenuto la promessa. E quindi io dedico a loro, alle vittime mute e invisibili, soprattutto agli animali di cui non si è mai parlato e mai si parlerà, il frutto di questo grande ed incessante impegno. E in qualità di parlamentari, di Presidente dell'Intergruppo per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente e di Presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, garantisco che non mi fermerò qui. Proseguirò su tutti i fronti che richiedono l'attenzione di chi veramente ama e rispetta gli animali, i nostri fratelli, i nostri compagni di vita sull'arca planetaria. Concludo, colleghi, ringraziando tutti voi, tutti voi colleghi che a qualsiasi titolo e con qualsiasi intento avete contribuito all'elaborazione del testo, gli uffici della Camera che hanno seguito l'iter del provvedimento con alta professionalità, i Presidenti e gli attivisti delle associazioni ambientaliste e animaliste italiane, dalla mia Leida a tutte le altre. E ringrazio infine il mio staff per il prezioso lavoro svolto. Signor Presidente, il gruppo di noi moderati voterà a favore.